Un medico conosciuto anni fa, Aniscemi, Aurelio Incarbone, mi chiede di far conoscere una sua lettera. La lettera è stata indirizzata alle autorità importanti della regione Sicilia e dello Stato, è stata poi alla fine indirizzata a me. Si è lamentato Incarbone che io non dessi la diffusione che egli chiedeva alla sua lettera. Io non solo questa lettera la pubblico, ma l'annuncio. Quindi troverete nel mio sito, troverete su Facebook, troverete nei luoghi dove ci si collega con me, la lettera aperta all'onorevole Vittorio Sgarbi, che è una lettera di medici, i quali in modo che con una lingua molto dura indicano tutti i problemi dei loro ospedali, soprattutto in Sicilia.